Dall'Argentina all'Australia, per il Tour Down Under che apre ufficialmente il World Tour 2017. Domenica si è già corsa la People Choice Classic vinta in volata dall'olandese Offland. Anche questa prima tappa si concluderà allo sprint e sono i Tugas a lanciarlo, con Steve Bar che apre la strada a Blight. Il velocista inglese sembra in volato verso il successo, ma è bruciato sulla linea dal belga Chris Buckmans, della BMC. Buon secondo posto comunque per Blight, terzo cale Biruan. Ci si aspetta una volata anche alla seconda tappa, ma in cima a questo strappo a 10 km dall'arrivo il gruppo rallenta, e così il Tugas Reim Taramai prova il colpo da finissè. In vista dell'ultimo chilometro Taramai è ancora davanti, ma dietro il gruppo sta rinvenendo. Vediamo l'Eston piegare le spalle nel massimo sforzo, e proprio sotto il triangolo rosso viene ripreso. Lo sprint si rivela ancora una volta molto serrato, e questa volta la spunta il sudafricano Reynard Yance Van Rensburg, della Tinkoff. Buckmans è secondo e mantiene la maglia Ocra, terzo l'italiano Michele Merlo. Storica la terza tappa, perché propone il primo vero arrivo in salita nella storia del Down Under, al Mount Kosciusco. Abbiamo visto lo scatto di un corridore della Banesto, e si tratta niente meno che di Manuel Conceisao, il fenomeno portoghese vincitore lo scorso anno del giro della Valle d'Aostra Under 23. A chiudere su di lui sono stati però proprio i Tugas, suoi connazionali. E sotto l'impulso dei portoghesi il gruppo si riduce a una quindicina di corridori, quando mancano 5 km all'arrivo. Dopo Amaro Antunes tocca adesso a Joao Pinto tirare, mentre sulla destra vediamo risalire posizioni Reynard Yance, che piazza uno scatto secco non appena le pendenze tornano a farsi impegnative. Gli rispondono Miguel Angel Lopez della Etihad e Simon Yitz della Orica, che a loro volta vengono francobullati da Bucklands, mentre intanto Taramay ha già superato l'arco dell'ultimo chilometro. Ecco l'Evston all'ultima curva, ormai irraggiungibile dagli inseguitori che ormai sprinteranno per il secondo posto. Reyn Taramay vince a Mount Kosciusko e passa in testa alla classifica del Down Under. A 32 secondi arrivano nell'ordine, Yates, con Seisao, Lopez, Bucklands, Malacarne, Gesink e Divineins. E oltre un minuto tutti gli altri. E con la maglia ocra sulle spalle del proprio capitano, nella quarta tappa i Tugas devono inseguire la fuga senza alcun aiuto da parte delle altre squadre. Così gli attaccanti hanno successo, e ad imporsi è l'italiano della lampre Pierpaolo De Negri, che anticipa il compagno d'avventura essere verticale B1, vincitore dello sprint dei battuti. Una beffa per i velocisti, che devono prendersela con le loro squadre. Nessun rimpianto invece per i Tugas, già mentalizzati sulla decisiva tappa di Old Will Langa che a 5 km dall'arrivo e dopo già due passaggi sulla salita finale vede ancora diversi uomini in fuga. Si tratta dell'Algerino Amsa, del Russo Lapshin e del Belga Maes, seguiti da un primo gruppetto di contrattaccanti e poi dal gruppo dei Big che vediamo transitare in questo istante. Inizia la salita e ormai la fuga, che solo fino a pochi chilometri fa aveva ancora buone possibilità di riuscita, è ripresa. A rifarsi sotto sono prima i contrattaccanti, e subito dopo il gruppo della Maglia Oca, sempre tirato dai Tugas, ed è proprio un Tugas ad attaccare, ma si tratta di Bachelance e non del leader Taramai che questa volta ricambia il favore al compagno, proteggendogli le spalle. Bachelance ha già superato l'ultimo chilometro e ha fatto il vuoto. Nessuno ormai può andarlo a riprendere. Jan Bachelance vince a Old Will Langa anticipando di 8 secondi il gruppetto con tutti i Big regolato da Mersman e dallo stesso Taramai. In questo modo il belga balza al secondo posto in classifica, alle spalle dell'Eston e suo compagno di squadra. Si ritorna ad Adelaide per l'ultima tappa, dove ancora una volta i velocisti vengono beffati dai fuggitivi. Sono in due a giocarsi la vittoria, che va dall'ex Clemens della Commonwealth Bank. Il 23enne australiano batte niente meno che un redivivo pippo puzzato, terzo e primo del gruppo il sudafricano Van Rensburg. Per la Commonwealth, professional australiana che con la Beijing era una delle due wildcard, è un successo di prestigio. Ma ancora più importante è la clamorosa doppietta in classifica che mettono a segno i 2-Gastap grazie a Reim Taramai e Jan Bachelance, quest'ultimo secondo anche un anno fa, quando aveva dovuto arrendersi ad Artur Vichaud. Terzo è Simoni X, mentre per il ciclismo portoghese l'altra buona notizia è data dal quarto posto di ConSaysao. E dal Down Under è tutto, alla prossima!